Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera! Continuiamo con le nostre lezioni dedicate alla seconda e superiore e studiamo insieme Costantino. Prima però ricordatevi di lasciare un mi piace qui sotto, iscrivervi al canale e seguirmi anche su Instagram, mi trovate come Diario di Charlotte. Costantino nasce nel 274 d.C. in Illiria, è il figlio di Costanzo Cloro che era stato nominato Augusto da Diocleziano. Se non avete visto la mia video lezione sulla tetrarchia e su Diocleziano ve la lascio qui. Costantino cresce alla corte di Diocleziano. Nel 306 si trova in Britannia con il padre che perde la vita proprio contro i barbari. Alla morte di Costanzo Cloro le truppe acclamano di Costantino l'imperatore. Nel frattempo però Roma non resta immobile e a Roma viene acclamato Massenzio. Ci troviamo nuovamente col problema della successione perché il meccanismo tetrarchico di Diocleziano si è rivelato inefficace, inadatto, macchinoso e complesso. Costantino e Massenzio dunque si scontrano per la parte occidentale del regno. Vi ricordo che per volere di Diocleziano il regno era stato diviso in una parte occidentale e una parte orientale e che vi era per la parte occidentale un augusto e un cesare e vi erano per la parte orientale un augusto e un cesare quindi quattro. Dunque Costantino e Massenzio si scontrano per l'occidente del regno mentre Massimino, Daia e Licinio inizialmente si accortano e poi si scontreranno per la parte orientale dell'impero. Costantino e Massenzio si scontrano nel 312 d.C. nella famosa battaglia di Ponte Milvio. In questa battaglia Costantino diventerà il nuovo imperatore dell'impero d'Occidente. Si racconta la leggenda che lui vide una scritta. In cielo gli apparve Inoc signo vinces. Sotto questo segno tu vincerai. Questo segno era il segno del cristianesimo. Questa leggenda ce la racconta il vescovo Eusebio di Cesarea. Sembra quindi che Costantino abbia avuto una sorta di visione fondamentale, ne abbiamo già parlato nella video lezione sul cristianesimo antico, che vi lascio qui, è l'editto di Milano, chiamato anche editto di tolleranza. Siamo nel 313 d.C. e Costantino rende il cristianesimo una religio licita, una religione lecita. Da allora, tranne che sotto l'impero di Giuliano l'Apostata, i cristiani non vengono più perseguitati. A partire dall'editto di Milano, Costantino di fatto opera una svolta, che prenderà poi il nome di Cesaro Papismo. Cesaro Papismo vuol dire potere civile, cesarismo sommato, unito al potere religioso, quindi al papismo. Come vi accennavo, Licino e Daia si scontreranno e ne avrà la meglio poi Licinio. Però non è che Licinio, quindi imperatore della parte d'Oriente, andrà molto d'accordo con Costantino. Inizialmente ci sarà una concordia tra i due, ma avrà poi vita breve e i due si scontreranno in Pannonia, nell'attuale Ungheria, per ottenere la supremazia nei Balcani. Siamo nel 314 d.C., quindi un anno dopo l'editto di Milano. Nel 324, dopo tre vittorie, una ad Adrenopoli, una a Crisopoli e una nell'Esponto, Costantino diventa l'unico imperatore. Vedete qui la cartina che vi segna le 3 vittorie. Quando si parla di Costantino, si parla anche della donazione di Costantino. La donazione di Costantino è un documento che per anni è stato considerato vero e che poi, grazie alla filologia, si è scoperto che fosse un falso. In questo documento abbiamo un atto diplomatico presunto. Il documento, peraltro, è stato probabilmente fabbricato nel 750, al massimo nell'850 d.C. Noi con Costantino siamo nel 300 d.C., quindi capite bene che è un falso. Questo atto diplomatico riporterebbe la donazione di Costantino a Papa Silvestro I, una giurisdizione civile su Roma, sull'Italia e su tutto l'Occidente che avrebbe accordato Costantino al Papa. Però Lorenzo Valla e Niccolò Cusano nel XV secolo, quindi nel 1400, ne dimostrano la falsità. Quindi la donazione di Costantino è un falso, che però per molto tempo è stato attribuito all'imperatore. Costantino fonda anche Costantinopoli sull'antica Bisanzio, l'attuale Istanbul. E la nuova città diventa una seconda capitale dell'impero, ricca di palazzi e di monumenti. L'usanza di costruire delle città per celebrare il proprio nome si ha da tempo in memore. Pensate alle varie Alessandri di Alessandro Magno, che avrete studiato l'anno scorso in prima superiore. Oltre ad aver reso il cristianesimo una religio licita, Costantino perseguita anche le eresie ed indice a Nicea il primo consiglio ecumenico dove condanna la dottrina di Ario, che giudica eretica, viene giudicata eretica dai vescovi, quindi contro l'eterodossia. Come mai Costantino perseguita la dottrina ariana? Perché Ario sostiene che Dio non sia umano e divino, ma solo umano. E quindi questa eresia si diffonde in tutto l'impero e addirittura spacca in due la comunità cristiana e viene vista come un pericolo. Tra gli altri provvedimenti che dobbiamo ricordare di Costantino abbiamo sicuramente la riforma economica. Costantino introduce una nuova moneta, il solidus aureus. Il solido, infatti, è una moneta d'oro solida di nuova creazione. Una tassa che colpisce il suolo e chi lo coltiva. Questa tassa si chiama capitazio iugazio e di fatto questo sistema andrà poi a penalizzare i contadini, che diventeranno quasi come dei coloni. Una tassa che colpisce il suolo e soprattutto i contadini. Oltre alla riforma economica, Costantino attua anche una riforma militare. Dopo la vittoria di Ponte Milvio scioglie i pretoriani, che peraltro hanno sempre dato diversi problemi, anche per soprattutto la successione, e istituisce la carica del Magister Militum, cioè il maestro dei soldati, quindi che va a sostituire di fatto il pretoriano. Nel 337 d.C. Costantino muore e la successione è complessa, perché viene diviso l'impero tra i suoi figli, Costante, Costanzo e Costantino. Inoltre la volontà di Costantino sarebbe anche quella di includere Dalmazio, Flavio Dalmazio, il nipote nella successione, che però muore poco dopo. Allora la meglio sulla successione Costanzo II, che continuerà la sua politica seguendo le orme del padre, quindi ordinerà la distruzione dei templi pagani, vieterà i sacrifici agli dèi. Però non avendo i re di, Costanzo II nominerà come successore Giuliano, il cosiddetto Giuliano l'Apostata. L'Apostata vuol dire che è colui che sconsacra, che non riconosce la religione. Infatti Giuliano l'Apostata vuole ritornare al culto delle divinità pagane e si oppone alla religione cristiana, però morirà soltanto dopo due anni di regno. Alla prossima video-lezione! Grazie a tutti!